Il calo di circa il 20% della bolletta per l'elettricità che la RERA, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ha stabilito per il 2023, non basterà a compensare gli aumenti complessivi per luce e gas subiti dalle famiglie italiane negli ultimi trimestri. A dirlo l'Unione Nazionale dei Consumatori, che pur commentando positivamente il calo del 19,5% del costo finale dell'elettricità ai consumatori, chiede un intervento da parte del Governo per sostenere le famiglie nella stangata energetica che le colpirà presumibilmente ancora per tutto il 2023. Secondo lo studio dell'Unione Nazionale dei Consumatori, nonostante il calo del 19,5% per il primo trimestre 2023 rispetto al trimestre precedente, che è stimato da RERA, va ricordato che il costo alle famiglie è comunque salito del 15,4% rispetto al primo trimestre 2022 e del 164,8% rispetto al 2021. Per questo la spesa totale dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023, nell'ipotesi di prezzi costanti, arriva in realtà per una famiglia tipo a toccare i 1.434 euro, 112 euro in più rispetto alla spesa del 2022, cifra che sommata ai 1.714 euro di spesa annuale stimata per il gas, costringerà le famiglie a sborsare complessivamente nel 2023 3.148 euro. Il Governo deve intervenire immediatamente, dichiara Monica Sattolli, coordinatrice regionale dell'Unione Nazionale Consumatori, che chiede una proroga oltre il primo aprile 2023 alla fine del mercato tutelato per condomini e associazioni, servizio che prevede che le microimprese e i clienti non domestici, che al 31 dicembre 2022 non avranno ancora scelto un venditore del mercato libero, siano serviti transitoriamente ancora dal proprio esercente e la maggior tutela, alle stesse condizioni e con continuità. Grazie. Grazie. Grazie.